Il più importante è perché abbiamo vinto una buona partita, ci siamo tolto un po' da lì sotto che non è facile, quindi siamo contenti di questa vittoria, sono contenti per i miei compagni, sono contenti per questa maglia, sono contenti perché comunque abbiamo avuto tante difficoltà, non riuscivamo ad avere la giusta continuità, andiamo comunque ad avere risultati negativi, siamo contenti di questo, di aver ottenuto una buona vittoria e speriamo che sia un 2014 in grande. Non era facile giocare oggi anche in una clima con gli altri? C'è da capirli perché comunque noi abbiamo avuto tante difficoltà, non siamo riusciti ad ottenere dei buoni risultati, è comprensibile, penso che siamo stati giudicati, ci hanno giudicato, noi stiamo andando in campo, hanno ragione, quindi ci dispiace, speriamo che ci possano dare una mano perché comunque è una tifoseria importante, una tifoseria dove tutte le squadre che vengono qua hanno timore, quindi spero tanto che ci possano dare una mano come hanno fatto anche oggi, comunque hanno incitato ma ci hanno anche criticato giustamente.